Oggi preparo lasagne al pane carazzo. Mettete in una casseruola abbastanza ampia un po' d'olio, fate scaldare e poi unisco un misto soffritto di carote, sedano e cipolla e anche un po' di prezzemolo. Fatelo rosolare, poi aggiungete 500 g di carne di maiale e bovino. Appena la carne cambierà colore, sfumate con un po' di vino rosso. Quando sarà evaporato il vino mettete i pomodori pelati precedentemente passati. Per questa ricetta ho usato due barattoli di pelati e poi anche lavo il barattolo con un po' d'acqua che unisco sempre al ragù. Ora saliamo e facciamo cuocere per circa un'ora e mezza. A fine cottura mettiamo qualche foglia di basilico. Ora mettiamo una pentola d'acqua, sedano, carote, cipolla e prezzemolo. Saliamo, prepariamo un brodo vegetale. Prepariamo anche la besciamella con un po' d'olio, due cucchiai di farina, mezzo litro di latte, salate, noce moscata. Adesso si mette sul fuoco fino a che si addenserà e raggiungerà la bollitura. Componiamo le nostre lasagne. Sul fondo della pirofile iniziamo a mettere un po' del ragù con della besciamella, cospargette interamente. Poi avevamo preparato il brodo vegetale, servirà per ammollare il pane carasau. Scolatelo dal brodo e mettetelo nella base della pirofila. Se ti piace questa ricetta commenta anche con una sola faccina, grazie. Adesso di nuovo il ragù di carne con la besciamella, una bella spolverata di grana padano o reggiano, dei dadini di mozzarella o formaggio filante, ancora un altro strato di pane carasau, sugo e besciamella, parmigiano. Fate circa 3-4 strati alternati. Ancora un altro strato e la nostra lasagna è pronta ad andare in forno. Scolcetela a 180 gradi per circa 30 minuti. Ecco qua la nostra lasagna è pronta per essere gustata. Ve la faccio vedere in tutta la sua bellezza. Adesso la assaggiamo. Grazie alla prossima ricetta.